buongiorno a tutti oggi vi voglio presentare una radio della rca radio americana la più vecchia che ho che è del 1939 è particolare perché ha queste valvole quelle nere che sono con l'involucro di metallo anziché il vetro la radio è alimentata da una tensione di 120 volt circa perché appunto la tensione americana questi sono i brevetti questo è lo schema delle valvole c'è lo schema elettrico dettagliato con il numero dei brevetti le frequenze di funzionamento e la garanzia radio del 1939 perché è particolare questa radio perché aveva delle innovazioni ad esempio l'altoparlante è attaccato al telaio del radio non è attaccato al mobile per cui sfilando il telaio si sfila anche l'altoparlante rimane soltanto il mobile poi è particolare perché aveva due valvole con l'involucro metallico e poi anche perché ha le preselezioni delle stazioni che sono ben visibili davanti sono delle preselezioni meccaniche che si intravedono vedete là in fondo ci sono delle dei nastri in tessuto per le preselezioni ci sono come dei rocchetti premendo il tasto si riavvolge l'alberino del condensatore variabile da una parte dall'altra e si sintonizza la stazione non è un sistema particolarmente preciso però funziona questa è la spina americana tensione 120 volt circa la frequenza è 60 hertz vediamo i particolari della presa dell'antenna la presa rca che l'hanno inventata proprio quelli della rca usata poi dappertutto c'è anche il commutatore per la televisione perché già nel 39 in america c'erano le prime televisioni questa radio era già predisposta per essere collegata alle televisioni quindi è molto particolare la televisione era proprio agli inizi questa radio era già predisposta in italia neanche a parlarne la televisione è arrivata negli anni 50 e mentre negli anni 50 in america c'era già la tv a colori con lo standard ntsc mentre in italia è arrivato lo standard pal anche se agli inizi c'era un un contenzioso diciamo non si sapeva se adottare sistema secam o sistema pal e poi addirittura c'era un sistema italiano che quasi tutti ignorano che fu inventato dalla indesit che però non prese piede quindi in realtà in italia all'inizio degli anni 70 per la precisione nel 72 con le trasmissioni delle olimpiadi di monaco c'è stato un contenzioso tra i vari sistemi di decodifica del colore vi faccio vedere un altro particolare della radio che in inglese c'è scritto che per una migliore ricezione installare l'antenna rca che veniva venduta come optional usata c'è scritto usare solamente delle valvole della rca per un funzionamento più corretto diciamo forse era un po una pubblicità perché poi alla fine alla fine si possono anche usare altre valvole comunque questa realmente monta valvole originali ed è tuttora funzionante naturalmente il condensatore che vedete qui è scollegato quello diciamo il condensatore a vitone e non è originale perché in origine era mancante quindi l'ho montato per tappare il foro ma poi sotto lo scollegato e ho collegato dei condensatori moderni così diciamo che non si stravolge l'estetica della radio è incredibile che il cavo di alimentazione ancora quello del 39 e non ha nessun tipo di problema la gomma è ancora perfetta intatta non è seccata il cavo è assolutamente perfetto questo ha dell'incredibile perché di solito i cavi marciscono questo è un cavo che ha più di 80 anni eppure è perfetto qui vi mostro il particolare dell'antenna io ho collegato un filo però c'è anche una specie di loop per mettere l'antenna interna che viene connessa in modo diverso credo che sfrutti la rete elettrica con quel tipo di ponticello che vedete qui da quanto ho capito a quanto ne so però io preferito scollegarlo e mettere un filo questa è la radio come appare davanti vedete che ci sono le sigle delle stazioni queste sono le preselezioni aveva ben sei preselezioni quindi sei memorie meccaniche per sintonizzare le radio le frequenze di funzionamento sono onde corte e onde medie la frequenza in onde corte va da 6 megahertz fino a 20 megahertz poi c'è la conversione anche in metri per far capire anche la lunghezza d'onda equivalente sotto vedete che c'è la banda am e poi sulla frequenza 1700 kHz c'è la frequenza della polizia dove vedete 170 in realtà e 1700 kHz c'è uno zero in meno quindi sarebbe 55 sarebbero 550 kHz 140 o 170 erano i 1400 1700 kHz e sarebbe la frequenza della delle onde medie vedete che le stazioni avevano soltanto quattro lettere per essere identificate c'era la casellina che si poteva aggiungere con il nome della stazione che di solito iniziava sempre per vi doppia negli stati uniti queste sono le manopole che permettono il funzionamento della radio e adesso andiamo a vedere il funzionamento naturalmente per farla funzionare ci vuole un trasformatore che trasforma la tensione italiana o europea da 220 volt a 120 volt americani la frequenza non è uguale a quella americana però non influisce sul funzionamento questo è il trasformatore che trasforma la tensione 220 volt in 110 volt che ho comprato qualche anno fa al negozio della gbc questo non è una pubblicità però almeno vi do un'indicazione su dove trovare questo trasformatore e ora lo collego e accendo la radio in internet ho trovato ancora lo schema elettrico che è molto ben fatto vedete si vedono anche dei dettagli notevoli leggendo la descrizione in inglese mi pare di aver capito che si poteva utilizzare l'antenna come antenna della radio la linea elettrica e quindi si poteva ricevere però io sconsiglio questo tipo di collegamento preferisco mettere un filo perché secondo me non è molto sicuro queste sono le indicazioni per il funzionamento quindi la radio funziona tra 105 e 125 volt la frequenza può variare leggermente come scritto qui sul retro del foglio c'è lo schema che vi ho indicato prima è incredibile che già nel 39 c'era la presa rca usata oggi dappertutto vedete qui tutte le indicazioni la prima manopola serve per l'accensione e per il volume la seconda manopola per il tono la terza serve per la commutazione dalla dalla banda onde corte alla banda onde medie e poi c'è la manopola di sintonia c'è anche un occhio magico al centro non so se è ancora buono adesso proveremo ad accenderla sono alcuni anni che non l'accendo questa è l'indicazione del dello schema della funicella e poi è incredibile che già nel 39 c'era c'erano le preselezioni delle stazioni quindi premendo questi tasti si spostava la lancetta della sintonia adesso non so se funzionano perché è ferma da tanti anni si funziona non è perfetto il meccanismo però rimuove leggermente bisogna revisionare il meccanismo della della delle preselezioni non risponde bene ai comandi comunque la radio funziona questa è la sintonia questo è il commutatore di gamma qui appunto c'è la tonalità che è solamente alta o bassa a solo due posizioni questo è il volume e l'accensione adesso andremo ad accenderla e la radio funziona ormai non si ascolta quasi più niente però proviamo avevo cambiato i condensatori di filtro alcuni anni fa quindi ormai non si ascolta quasi più niente infine proviamo le onde corte a volte sono fortunato e riesco a ricevere qualcosa sono un po' di anni che non la provo purtroppo non si ascolta nulla ovviamente non c'è nessuna stazione devo anche pensare che sono in uno scantinato in questo momento la radio sta ricevendo ho collegato un generatore ad un filo che ho avvicinato al filo dell'antenna che è quello bianco e rosso come antenna ho usato un cavo della corrente dove ho agganciato il filo del generatore e in questo momento la radio riceve un tono della portante a circa 800 kHz ecco vi mostro la radio accesa nella parte posteriore sarebbe da revisionare questa è la vista con la luce spenta vedete che l'occhio magico funziona non sarà magari a 100% però certo c'è da fare una revisione generale grazie a tutti